Queste situazioni ti fanno pensare all'idea di chiudere, ho fatto un negozio per un capriccio, se chiudo un negozio mando praticamente nove famiglie sull'astrico. La voglia di mollare c'è ed è pure tanta, ma Giorgio Morbiato, due volte campione del mondo di ciclismo nell'inseguimento a squadre, è rimasto un campione e pensa ai suoi dipendenti, perciò non chiuderà il suo negozio. Domenica, poco dopo le 4 del mattino, il suo salone di biciclette di strada battaglia a Mandriola di Albignase, con le porte di Padova, è stato assaltato da una coppia di ladri. Uno di loro, dopo aver spaccato con un tombino il vetro blindato, come un gatto è riuscito a intrufolarsi tra le lastre di vetro e a entrare nel negozio. Con grande calma, mentre suonava l'allarme, ha ripulito il registratore di cassa di 95 euro, si è preso un vecchio pc portatile, molto caro, amorbiato e un giubbotto sportivo. Fuori c'era un complice a fare da palo, ma un buttafuori di ritorno dal lavoro si è accorto che qualcosa non andava, e mentre il ladro usciva dal negozio, l'ha bloccato fino all'arrivo dei carabinieri. Con l'accusa di furto aggravato è stato arrestato il 23enne romeno, Stefan Dumitru Carausu, disoccupato, con una fedina penale lunga così, per reati in tutta Italia. La sensazione è quella di impotenza rispetto a questi sbandati, chiamerei solo sbandati, che oggi per 50 euro, 100 euro, non sono pronti a fare qualsiasi male grazie alle persone che lavorano. Il giovane è stato processato per direttissima lunedì mattina. Il GIP ha convalidato l'arresto, disponendo per lui la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Padova. Siamo proprio in balia di qualsiasi persona, perché purtroppo dalla sensazione che ha il cittadino, il negoziante, tutto che siamo noi, è che poi non sono mai sufficientemente puniti. Metterli tutti in galera, che sarebbe il posto dove metterli, non c'è spazio, non c'è posto, è praticamente impossibile. E quindi la fanno franca. E quindi la fanno franca.